Arzignano, è mezzogiorno quando un tir polacco sta facendo una manovra in via dell'industria, ma prende male le misure e travolge un lampione della luce, un cartello segnaletico, il guardrail e un punto gas. Il camionista straniero però invece di fermarsi e prendersi le sue responsabilità se ne va lasciando il palo pericolosamente ridosso della strada. È una donna ad accorgersi di tutto e a lanciare una segnalazione alla polizia locale. Gli agenti immediatamente grazie alla rete di telecamere Targa System in due ore identificano il tir che viene multato per 450 euro più i danni per 2500 euro. Ad Arzignano abbiamo due elementi fondamentali a servizio della sicurezza e a servizio dei cittadini. Uno è il grande senso civico degli arzignanesi che aiutano con le loro segnalazioni la polizia locale ad essere sempre aggiornata in tempo reale. Due, l'altro importante elemento è la grandissima rete tecnologica di telecamere intelligenti che abbiamo installato in questi anni. Quindi con questi due elementi possiamo dire che la città è sempre più sotto controllo.